Buongiorno, sono Massimiliano Piovan e mi occupo di sviluppo e di qualità dei tessuti tecnici e dei film plastici in Giovanardi. Giovanardi dal 1999 sviluppa film plastici ad elevate prestazioni per molteplici mercati ed applicazioni, in particolare per la protezione solare. La costante e continua collaborazione con i clienti sia in Italia che nel mondo ci ha permesso in oltre 20 anni di sviluppare oltre 80 qualità diverse dei film plastici. Oggi vi parlerò delle performance, caratteristiche e qualità dei film plastici Giovanardi dedicati al mercato della protezione solare. Performance fondamentale per il mercato della protezione solare è la protezione dai raggi UV, i raggi che sono dannosi quindi per la pelle. I film plastici Giovanardi sono certificati UPF 50+. Altra prestazione da sottolineare per i film plastici Giovanardi è l'isolamento termico. La bassa conducibilità termica di questi film plastici conferisce benessere agli spazi living outdoor. Tra le performance annoveriamo anche l'isolamento acustico che permette di ricreare spazi outdoor protetti dai rumori molesti cittadini. Caratteristiche tecniche di prodotto. I film plastici Giovanardi sono progettati per un'applicazione outdoor, quindi devono essere additivati con sostanze che permettono la durata e la corretta funzionalità sulle tende da sole. La prima caratteristica fondamentale è quello del low cohesion, quindi questi film sono additivati di una sostanza anticoesiva del film su se stesso per agevolare la movimentazione della tenda, quindi l'avvolgimento e lo svolgimento del tessuto senza causare fenomeni di appiccicosità. La resistenza UV è un'altra caratteristica fondamentale, infatti il materiale non deve subire fenomeni di ingiallimento all'esposizione dei raggi UV del sole e quindi dobbiamo garantire una certa durata. Tutto ciò è possibile grazie all'additivazione di particolari sostanze che vanno a bloccare i radicali liberi della radiazione del sole. La trasparenza è un'altra caratteristica fondamentale di questi film in quanto permette un'elevata visibilità attraverso il materiale. I film giovanardi sono garantiti per una trasmittanza della luce visibile maggiore del 90%. Abbiamo poi dei film speciali in cui cambia la formulazione del film plastico, ad esempio abbiamo dei prodotti senza aftalati per particolari applicazioni certificati e testati. Abbiamo delle formulazioni ignifughe, ad esempio per particolari progetti in cui viene richiesta una certa certificazione di razione al fuoco e li andiamo a testare e certificare secondo le norme nazionali principali europee, come ad esempio classificazione di razione al fuoco francese, tedesca, italiano ovviamente ed euroclasse. Infine un'altra formulazione speciale che è stata progettata in quest'ultimo periodo è una formulazione antibatterica, quindi abbiamo disponibili dei film in cui è stato additivato un principio attivo biocida che permette, evita il proliferare di microorganismi batteri certificato e testato contro ceppi batterici gram positivi e gram negativi rappresentativi. Oltre a tutta la famiglia dei film plastici trasparenti, Giovanardi amplia l'offerta con delle varianti, ad esempio abbiamo delle varianti finestrate in cui viene stampata una finestra all'interno del film in pvc che viene utilizzato soprattutto per applicazioni da gazebo e finestrature. Abbiamo poi una variante rinforzata che noi chiamiamo Vinitex in cui andiamo ad inserire all'interno del film trasparente un'armatura tessile in poliestere ad elevata tenacità per le applicazioni più pesanti. Per la protezione solare invece abbiamo poi una qualità particolarmente apprezzata per le sue caratteristiche di filtro UV e filtro luce visibile. È un particolare film trasparente, mantiene la sua trasparenza pur avendo una leggera pigmentazione fumé. E questo ci permette di raggiungere dei livelli di trasmittanza di luce visibile e di calore che permette poi di essere idoneo a particolari applicazioni soprattutto in situazioni di sole e di radiazione solare più pesante. Infine le caratteristiche tecniche di prodotto un po' meno specifiche ma che riguardano tutta la famiglia dei film plastici giovanardi sono quelle sullo spessore, quindi la nostra offerta varia da spessori di film che vanno dai 200 micron, 300 micron fino al millimetro, il millimetro e mezzo per applicazioni industriali. Abbiamo poi delle diverse morbidezze del film, quindi abbiamo dei materiali più soft, più morbidi che vengono utilizzati ad esempio nel mercato del nord Europa oppure nelle zone in cui ci sono temperature un po' più rigide. Mentre invece abbiamo delle qualità di film un po' più rigido che viene utilizzato soprattutto nelle zone dove c'è molto caldo, la radiazione solare è molto pesante e quindi è necessario avere dei film che resistano bene alle alte temperature. Infine abbiamo una varietà anche nell'offerta dei rotoli di film plastico in quanto possiamo variare a seconda poi delle esigenze e delle richieste del cliente lunghezze dei rotoli o altezza dei rotoli da un'altezza minima di 132 o 140 centimetri fino ai 180 centimetri. L'evoluzione dei film plastici giovanardi è rappresentata da Crystal Trio, il primo film ad elevata stabilità dimensionale testato e certificato a zero restringimento. Per qualsiasi informazione potete fare riferimento al sito texout.com Grazie a tutti! Grazie a tutti!